Amci di YouTube, ben trovati da Marco Liguori in questo video, parliamo di un grave lutto per il mondo dello sport italiano, il giovane talentuoso atleta ci lascia a soli 24 anni e prima di saperne di più, prima di scoprire chi è mancato, vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, un fulminaccio al sereno, affunestato il cielo dello sport italiano. Una tragedia tanto dolorosa quanto inaspettata, strappato alla vita. Il talentuoso atleta è con grande rammarico che il primavere di Marco Liguori annuncia la scomparsa del giovane giocatore di basket. Samuel Dillas era un pivò di 2 metri e 6 centimetri, militava nel Lumezzane, squadra di basket di serie B nella giornata di venerdì. Samuel Dillas, di 24 anni, è stato colpito da un malore improvviso, è stato ricoverato all'ospedale di Brescia, sfortunatamente per lui non c'è stato nulla da fare ad annunciarne il decesso. E' stato proprio il Lumezzane basket che oltretutto ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita. Il primavere di Marco Liguori, con grande dispiacere, ricorda un giovane e bravo atleta, volato in cielo davvero troppo presto. Samuel Dillas, mancato a causa di un malore improvviso, come detto, all'età di 24 anni. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Ciao!